Vigilanti professionali, massiccia videosorveglianza e anche volontari per il controllo del territorio. Anche a Monfalcone l'occhio lungo dell'amministrazione è attenta agli aspetti legati alla sicurezza. Il caos che si è sollevato a Trieste per il caso Ronde è vissuto in maniera diversa nel comune dei cantieri. Il sindaco Anna Maria Cisinte è stata sin da subito attenta a questo argomento, mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Nelle zone più difficili noi abbiamo anche avviato un progetto che è quello della presenza, nel nostro caso, della vigilanza privata perché ci sono degli orari in cui la polizia urbana, la polizia municipale di Monfalcone non c'è, le forze dell'ordine sono presenti però anche la presenza di agenti di polizia privata ci è servito per la denuncia degli accadimenti. Anche noi abbiamo avviato un percorso perché i cittadini che volontariamente si sono messi a disposizione per l'occhio vigile e ovviamente non hanno competenze di sicurezza o di intervento ma l'occhio più lungo dell'amministrazione che attraverso la presenza riesce anche magari a segnalare situazioni riferite e più che a problemi di sicurezza, problemi di degrado, noi le stiamo utilizzando. Ogni elemento diventa dunque utile solo se coordinato e condiviso con gli enti preposti e il punto di partenza da parte di Cisint sono le forze dell'ordine. La relazione con le forze dell'ordine, con i gruppi che a seguito anche del comitato ordine e sicurezza pubblica che spesso il prefetto con il questore avviano, ci hanno consentito ad esempio di risolvere delle problematiche relativa a dei furti per dire che in certi periodi erano stati segnalati in tempo reale quindi è fondamentale che ci sia una grande condivisione con gli operatori professionisti delle forze dell'ordine che sono loro deputati a dare sicurezza ma le amministrazioni locali e quella regionale secondo me in un sistema che noi abbiamo avviato ritengo virtuoso possono dare un contributo non poco importante.